Io sono Francesco e io sono Rossana. Vi auguriamo che questo viaggio vi piaccia. Sì, e allora direi Costantino di partire subito con la musica. Papà, scusa, non è possibile che tu non ci abbia dato retta. Noi non lo metteremo via questo cellulare, almeno non quando ce lo dici tu. Lo sappiamo, papà, che tu odi il cellulare, ma ogni evoluzione ha avuto i suoi haters. Ah, papà! No, 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 scusate, scusate, stavo controllando un attento di lavoro. Quante volte siamo andati a cercare su Wikipedia il nome che non ti ricordavi? Eh, sarà stata una volta, due, diciamolo due. In futuro ci sarà qualche posto noioso e ripetitivo in meno, perché sarà la tecnologia a farlo per noi. Esatto. Ecco, ci saranno posti creativi, perché l'arte si rinnova di continuo e renderla più umana sarà la sfida della nostra generazione. Esatto. Su internet puoi fare tutto, papà, guarda. Puoi imparare con una ricetta a scrivere. Cosa scrive? Prodato, perché ballato. Aspettiamo senza avere paura domani. Puoi imparare con una ricetta a scrivere. Grazie a tutti.